Happy, shalala, it's so nice to be happy, shalala Eccomi qua, buongiorno amici cagliaritani, gli amici di tutta Italia Allora, su questo brano bello carico, sempre ottimismo Però vorrei fare una piccola riflessione, ed è credo che sia quella più importante Molto spesso confondiamo la parola, perché l'ottimista, lo sapete quando si vede? Quando ne hai problemi? Sorride, meditate gente, ne buona giornata e a presto! Eccoci qua, amici popolo di ottimisti La settimana è terminata, credo alla grande, per tutti quanti noi Per noi che viviamo con ottimismo Mi raccomando, fine settimana dedicatevi al vostro benessere Chi con le vostre famiglie, chi con gli amici Chi andrà in discoteca, chi andrà in ristorante Fate le cose che piacciono a voi, con molto ottimismo Mi raccomando, e sempre con un gran sorriso! Ciao a tutti! Ciao Matteo! Neeeeeeeee! Buongiorno Matteo, buongiorno Presidente Mammeli Ciao, io sono Roberta e volevo dirvi che anche io sono stata contagiata dall'ottimismo di Ciro a Ciccatiello Ecco, bene! Volevo semplicemente augurarvi una buonissima giornata Anche se oggi il sole purtroppo non splende Ma l'importante infatti è avercela comunque dentro Grazie, vi auguro una buonissima giornata ancora e buon lavoro Ciao! Buongiorno Matteo, buongiorno amici cagliaritani Buongiorno Presidente Mammeli Meeeee! Ragazzi, vi voglio fare dei complimenti Perché veramente avete creato un programma fighissimo, giovanile L'unica probabilmente nota sonata è quel monumento del Presidente Mammeli Scherzo! Una persona di cultura, lo ammiro tantissimo E mi farà piacere prima o poi di conoscerlo dal vivo Sono le 7 e 5 del mattino, sono già sveglio, produttivo Cercando di produrre come d'altronde da buon ottimista Questo è quello che voglio io trasmettere Ragazzi, bisogna muovere il culetto per andare avanti Perché la vita è difficile, ma con molto ottimismo si deve andare avanti Questo è il messaggio Né ottimismo Mammeli, ottimismo, no! Così porti sfiga, eh! Né! Ciao, buona giornata a tutti! I amici di Sardegna 1 Mi trovo nel distributore di Via Campagna Uno dei più forti di zona, eh! Perché qui si lavora con sorriso Faccia la cortesia Ci saluta il Bruni e il Presidente Mammeli? Ciao Bruni e ciao Mammeli La parola d'ordine sempre è Ottimismo Né! Ciao ragazzi, buon proseguimento Buona giornata Né! Ragazzi, qui alla My Company Si lavora con Ottimismo! E come sempre, buongiorno Amici cagliaritani Amici di tutta la Sardegna Allora, inizio della settimana Vi auguro un inizio strepitoso Perché come vedete a Cagliari È arrivato un gran bel sole Ma al di là di quello Sempre con l'ottimismo giusto Perché bisogna essere sempre ottimisti E approfittiamo pure del fatto Che c'è una settimana santa Per cui È una settimana molto importante Su tutti i fronti A livello spirituale A livello A livello di nulla Né! Sì, è quasi un altro Né! Beh ragazzi Ci sta È tutto live Eccomi! Buongiorno! Amici cagliaritani Amici ormai Di tutta la Sardegna E amici di Sardegna 1 Amici del mitico Matteo Bruni E del grande presidente Mammeli Iniziamo la settimana A gioventù Oggi è lunedì Io sto già casatissimo Perché con ottimismo Procedo la settimana Presumala Grande Metterò perlomeno Tutta la buona volontà Ma è una settimana Anche molto importante questa La settimana Santa Né! Quindi con molto ottimismo Confessatevi Restate con le vostre famiglie Vi raccomando E fate sempre cose belle Che vi fanno star bene Vi raccomando Ottimismo È una bella malattia Contaggiamoci tutti Né! Buongiorno amici cagliaritani Amici della Sardegna intera Buongiorno a te Grande Matteo E buongiorno a te Mitico presidente Mammeli Per caso vi dicono qualcosa Queste paste Indovinate un po' Vi ho fatto un bello scherzo E qui affianco a me E qui affianco a me Al bar diamante Il mitico Paolone Che esceci da sempre Grandi numeri all'otto Fa vincere tanta gente Paolone Buongiorno presidente Buongiorno Matteo Finalmente ho il mio amico Ciro Affianco a me Ecco Paolone Siamo qui Vi ringraziamo come sempre Paolone Velocemente Due numeri Da dare stamattina a volo 4 e 5 Sulla lotta di Palermo Buongiorno amici di Sardegna 1 Buongiorno Matteo Buongiorno presidente Mammeli E buongiorno a tutti gli amici Ottimisti E' terminata la settimana Una settimana difficilotta Devo dire la verità Però con molta energia Andiamo avanti Perché oltre a cazzeggiare In questo spazio Lavoro come voi Grandi lavoratori Allora Vi auguro Velocissimamente Buona Pasqua A tutti Grande serenità E amici ricchi Aiutiamo a chi In questo momento Non arriva a fine mese Voi che avrete Tutte le tavole belle Imbandite Grande Matteo Amici di Sardegna 1 Mi raccomando Pace pace Amore a tutti quanti voi Ottimismo Sempre Con sorriso Ciao Matteo Ciao Presidente Mammeli Ci troviamo nella città più bella del mondo Napoli Un saluto a tutti gli amici Cagliaritani La città più bella del mondo La città dell'ottimismo Nel Matteo Presidente Mammeli Mi hanno sequestrato Per tutto il mio ottimismo Mi hanno bloccato qui Questa giornata bellissima di Pasquetta Amici cagliaritani Approfittatene Non sono in giro Mi raccomando Divertitevi da pazzi Perché viva L'ottimismo Nè Ciao amici di Cagliaritani Amici di tutta la Sardegna Come vedete qua siamo Ottimismi Perché l'ottimismo È il sole La città di Cagliaritani Aiee 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 un'altra settimana volge al termine da grandi impegni, gioie, speranze conquiste, lavoro saper iniziare un nuovo weekend io sono già pronto a viverlo con molto entusiasmo e sempre con la stessa consapevolezza che ogni istante va vissuto nella sua bellezza ragazzi, ricordatelo e sempre con molto ottimismo ciao Matteo, ti raccomando ciao Presidente Mameli però tu mi sembri un po' andante al pessimismo ciao a tutti Presidente Mameli noi siamo qua per una piccola riflessione innanzitutto vogliamo dire invitare tutti i ragazzi a seguire i propri sogni a essere tutti trasportati dall'ottimismo di Cito Cicatiello la nostra parola d'ordine è ottimismo buongiorno amici di Sardegna 1 buongiorno Matteo buongiorno Presidente Mameli le raccomando Presidente ogni tanto potrebbe anche salutarmi scherzo allora Matteo iniziamo la settimana lavorativa mi auguro con tanta energia con tanta grinta anche perché siamo reduci di un fine settimana che è stato abbastanza lungo con tutte queste festività e allora quindi forza e coraggio e andiamoci e andiamo e allora volevo fare un piccolo annuncio se mi concedi Matteo tu lo sai io sono un imprenditore vivo in Sardegna 21 anni e sviluppo tanto lavoro sto reclutando per tutta la Sardegna giovani ventitori che vogliono far parte di un team giovane, giovanile pieno di energia che è quello della My Company di Ose ti raccomando chi dunque fosse interessato può chiamare direttamente nel studio grazie Matteo amici ti raccomando ottimismo sempre eccoci qua ciao Matteo ciao Presidente Mameli ciao quelli eccovi allora mi trovo a Nuoro qui si lavora con sorriso e ottimismo perché ci troviamo in ristorante Domu Mea mi fate un saluto ai signori ciao Bruno ciao Mamos ciao Bruno ciao Mamos Bruno Bruno e Mameli eccovi qua ciao amici cagliaritani ciao amici di tutta la Sardegna io mi trovo qui a Endoven io effettivamente ho fatto una bella riflessione probabilmente io rimango in questa città perché effettivamente ho visto che c'è un ottimismo veramente da paura in questo momento queste persone forse probabilmente ridono più di noi italiani allora amici cagliaritani mi raccomando sta iniziando la settimana alla grande da noi c'è stato ovviamente tante feste vi siete caricati al massimo io mi sono caricato al massimo ma rimango ancora qua con tanto ottimismo ciao amici della Sardegna anche noi anche noi ho la gresi lei siamo coinvolti ottimismo di Ciro Cica Cicatiel ciao Matteo ciao Matteo ciao Presidente ma bene e come vedete sono il pomo per Amsterdam e portare un po' di ottimismo nel paese dei fiori è il mio ottimismo è il mio ottimismo è il mio ottimismo ciao Sabina è il mio ottimismo amici cagliaritani come vedete qui ad Amsterdam un po' di aria napoletana la cosa una ria serena l'ho parata ciao Matteo ciao Presidente è il mio ottimismo è il mio ottimismo it's so nice to be happy happy it's so nice to be happy ciao Sardinia Sardinia ottimismo ottimismo bravo ok ciao amici di Catery come vedete il colore qui ad Amsterdam dell'ottimismo è il colore arancio né ottimismo né ottimismo né ottimismo ciao ciao Sardinia ottimismo ciao 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 Matteo ciao Presidente Mameli e buongiorno a tutti gli amici cagliaritani io mi trovo qui ancora dentro e purtroppo mi rendo conto che la nostra partenza è vicina e qui c'è aria purtroppo di pessimismo ciao Sardinia ottimismo Sardinia ottimismo e signori e signori adesso partiamo col carrello delle tirite e beviamo con ottimismo come dice Ciro Ciccattiello ciao Matteo ciao Sardinia allora come vedete io qui so coinvolgendo tutti i giovani all'ottimismo ciao ciao Sardinia ottimismo ciao Sardinia ottimismo ciao Sardinia ottimismo ciao Matteo, ciao presidente come vedi sono esattamente le 11.20 e mi trovo nella nuova vita di Endove siamo solo all'inizio ma qui c'è un ottimismo che non vi dico ottimismo sempre vi terrò aggiornati a voi studio ciao Sardinia ottimismo ciao amici ciao amici di Via Venturi ottimismo buongiorno Matteo, buongiorno presidente per la sua gioia mi sono affiancato a una bella fanciulla Sarda dopo il mio rientro da L'Olanda con grande ottimismo vi auguro questo gran fine settimana di grande armonia di grande energia fate tutto ciò che vi piace perché noi qui viviamo sempre con grande ottimismo ottimismo vediamo che c'è un bel cappello di quarta fermata e intanto ti mandiamo un braccio ciao Matteo ciao presidente Romeli siamo qui da Stile di Vino con Ciro Cicatello e ottimismo ciao amici di Via Venturi ottimismo ciao amici di Via Venturi ciao amici di Via Venturi ottimismo buongiorno amici cagliaritali buongiorno Matteo buongiorno presidente Mameli è iniziata la settimana sono solo le 7 e un quarto il mattino io con grande ottimismo corro perché anche il movimento fa bene alla salute allora amici cagliaritani vi raccomando abbiamo una settimana abbastanza lunga con grande impegno con grande sacrificio e con grande sorriso vi raccomando lavorate con ottimismo ottimismo ciao Matteo ciao presidente Mameli indovinate con chi mi trovo con il mitico Luca Silvestrone e Ignazio Cateo ciao Matteo ciao presidente Mameli siamo qua a lavorare per i cagliari con tanto ottimismo ciao Matteo ciao presidente Mameli come dice Ciro Cicatello ottimismo ciao amici cagliaritani e come dice Ciro Cicatello nella vita ci vuole ottimismo ciao Matteo come dice Ciro Cicatello io lavoro con ottimismo ciao ai due di via Venturi un saluto ai due di via Venturi ciao ai due di via Venturi ciao Matteo ciao presidente Mameli come dice Ciro Cicatello ottimismo buongiorno amici cagliaritani su questo ritmo della grande Laura Pausini ci carichiamo al massimo perché siamo giunti al fine settimana dai noi ottimisti non vediamo l'ora ovviamente perché perché in queste due giornate di riposo non faremo altro che fare le cose che meglio ci piacciono quindi discoteca al mare a cena a pranzo con amici familiari insomma ragazzi facciamo facciamo quello che ci rende felici allora Matteo sono contento di una cosa ho visto che il popolo degli ottimisti cresce è fighissimo vedere delle persone in strada che ti fanno il gesto meglio questo gesto che altri gesti e allora ragazzi vi vogliamo sempre di più vi raccomando mandateci sempre più video e vi raccomando ottimismo sempre buon fine settimana a tutti neee se non era tutti insieme dai siete pronti? a piedi nudi con la musica la radio ottimismo ciao amici cari di alzano qui a Nuoro lavoriamo con ottimismo come dice il mio amico Ciro anche qui a Nuoro si lavora con ottimismo ciao tutti amici di Sardegna tutto qua da Nuoro siamo tutti qua da ottimistimo eccoci qua buongiorno amici cari aritani amici di tutta la Sardegna è iniziata la settimana ecco grande ottimismo qui ci abbiamo persone che lavorano con grande energia con senso di responsabilità e sempre con grande ottimismo allora volevo ricordarvi una cosa Matteo sabato io partirò per lontano cercherò di portare l'ottimismo italiano anche lì e allora amici cari aritani vi raccomando prendete esempio di chi lavora con sorriso mette la passione tutto quello che fa e con gran sacrificio buona giornata a tutti mi raccomando lavorate con grande energia ragazzi salutatevi il presidente e il presidente e come si può dire amici cagliaritani ottimismo la vario macchina ottimismo buona fortuna noi giovani cagliaritani siamo ottimisti ciao amici della sardegna qui lavoriamo con ottimismo ciao sardegna ottimismo ottimismo ciao sardegna noi da Erasmus studiamo con ottimismo l'ottimismo il profumo della vita e noi ci siamo sposati oggi ciao ciao amici cagliaritani noi ci siamo sposati oggi fa molto ottimismo ma che dice Ciro Ciccatiello ciao amici cagliaritani ottimismo ciao amici cagliaritani ciao amici cagliaritani ottimismo e lavoriamo con ottimismo buongiorno amici cagliaritani buongiorno Matteo buongiorno presidente Mameli siamo giunti a quello che noi vogliamo fine settimana ok vi raccomando vi raccomando il tempo non è dei migliori perché mi pare che qui siamo un po' scarognati ultimamente ma noi ottimisti vediamo il sole neè presidente sole allora vi raccomando amici cagliaritani divertitevi io partirò per Londra e porterò grande ottimismo neè buon fine settimana a tutti ti carichi sempre neè appiccini appiccini nati chi è questo? per me ciao Matteo allora come di stiamo festeggiando cinque anni buongiorno amici di tutta la sardegna io sono qui a aeroporto a elmas mi imbarcherò fra poche ore per portare un po' di ottimismo a Londra allora Matteo presidente Mamedi vi raccomando mancherò per quattro giorni tenete alta l'energia lì in studio da voi io abbinerò la mia vacanza lavoro perché cercherò di portare lavoro nuovamente in Sardegna con grandi novità nel frattempo amici cagliaritani iniziate la settimana con grande impegno, con grande entusiasmo, con grande energia e con grande ottimismo ci sentiamo al più presto, buona giornata e buon inizio settimana a tutti neè siamo riusciti a portare il sole voi non ci crederete ma i presupposti sono giusti per dare qui a Londra tanto ottimismo me me Cagliari ottimismo ragazzi di Cagliari in Italia ottimismo ottimismo eccomi, buongiorno amici di tutta la sardegna indovinate mi trovo qui vicino al Buckingham Palace mi auguro che la regina ci faccia entrare per portare un po' di ottimismo ciao Sardegna ciao Sardegna qui da Londra c'è tanto ottimismo ciao Matteo, ciao Presidente Mameli eccomi qua, secondo te non mi mettevo a fianco due belle ragazze allora mi salutate con grande ottimismo la Sardegna ciao Sardegna ottimismo ciao Sardegna ottimismo ciao Sardegna ottimismo ottimismo ciao amici di Cagliari mi trovo a Piccarilli Circus qui c'è un'area di ottimismo che è una cosa favolosa mi sto divertendo ciao Italia ottimismo non capisco, è pessimista non speak Italia speak Italia ciao Italia ciao Italia ottimismo 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 ciao Sardegna ottimismo ottimismo pronto Matteo Matteo Presidente mi sentite qui da Londra tutto ok l'ottimismo prende piete ciao Sardegna ottimismo ciao Sardegna ottimismo ciao Miss Italia con ottimismo buongiorno amici Cagliari ciao Sardegna ottimismo ottimismo sempre uno dei più grandi ottimisti di tutto il mondo era lui il grande Nelson Mandela ottimismo ciao Sardegna ottimismo amici della Sardegna ottimismo ciao Sardegna ottimismo ciao Sardegna ottimismo Sardegna ottimismo amici della Sardegna ottimismo amici della Sardegna ottimismo Sardegna ottimismo Sorbignia ciao ARIGNA ottimismo eccoci buongiorno eccoci buongiorno Siamo giunti ovviamente al nostro premiato fine settimana, noi ottimisti. Allora Matteo, buongiorno, buongiorno Presidente Mameli, ne, 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 ne. E allora, siamo giunti al nostro, come dicevo, fine settimana, io sono reduce il mio viaggio di ottimismo in Gran Bretagna, tutto è andato bene, ma in Sardegna c'è stato un evento di ottimismo, Presidente Mameli, da non sottovalutare. Il mio amico Luca Silvestrone ha concluso con il medico Cellino, gli americani sbarcheranno in Sardegna, speriamo bene, io vedo tanta positività e tanto lavoro probabilmente da sviluppare in Sardegna. E allora, amici cagliaritani, vi ricordo, l'ottimismo è il pane della vita, le persone positive attraggono i positivi, per cui passate un bel fine settimana e contornatevi sempre di gente energica e piena di ottimismo, eh? Vi raccomando, ottimismo e buon fine settimana a tutti! Ne! Buongiorno amici di tutta la Sardegna, buongiorno Matteo e buongiorno Presidente Mameli, per lei c'è sempre un ne, ecco perché, perché accanto a me oggi c'è il mio amico Luca Silvestrone, ok? Allora, vi raccomando amici cagliaritani, iniziamo una settimana alla grande, con grande energia e con grande ottimismo, perché c'è tanta gente che, come noi, lavora con grande ottimismo! Buongiorno amici di tutta la Sardegna! Buongiorno Matteo, buongiorno Presidente Mameli e buongiorno Gennaro Locombardi! Beh, prima o poi ci incontreremo, eh! Allora, è terminata un'altra settimana! Eh, insomma, se dovessimo fare il sutto di tutto quello che è successo, saremo un po' pessimisti, però, 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 noi ottimisti crediamo, crediamo, e ci auguriamo che tante cose possono andare in porto. E allora, signori cari, vi raccomando, con grande energia, sempre, con grande ottimismo, divertitevi, fate sempre quello che è meglio vi fare, e vorrei concludere con una frase, vediamo se vi piace. Più strada fai, più fossi prendi, ma se resti a casa, sai quantità monti, perdi? Ottimismo per tutti e buon fine settimana! Ciao Matteo! Neee!